La Wille di Agrigento ha organizzato il primo corso di formazione per contrastare il divario digitale generazionale. L'ADA, la Wille Pensionati e la Camera Sindacale Territoriale Wille di Agrigento hanno annunciato l'inizio del primo corso di informatica per contrastare il divario digitale generazionale. Da sempre impegnati nella tutela dei lavoratori e nella salvaguardia dei diritti dei cittadini, oltre che nell'offerta di servizi di assistenza fiscale e previdenziale, questo sarà il primo di una serie lunga di incontri volti a migliorare e semplicemente semplificare notevolmente la vita non solo degli anziani, ma anche di tutti coloro i quali trovano difficoltà nell'approccio alle nuove tecnologie. Il segretario generale della Wille di Agrigento, Geracquisto, il presidente dell'ADA di Agrigento, Carlo Florio, e il segretario della Wille Pensionati, Giovanni Migeli, sono soddisfatti delle numerosissime richieste giunte per la partecipazione al corso, ritenendo questo a prima occasione solo l'inizio di una serie di opportunità create dall'organizzazione sindacale della Wille Agrigentina.